dai dai bene con la linea stiamo stretti siamo in stretti se è lungo che è in largo bellissimo madonna la pacchia a me a me era solo bravo bravo a ok ok bravo Gaganti la cazzo no la chiusa via per cambiare mi metto ma che parla per will bravo si paghi mmm cazzo no la cadere non c'è tutto l'occhio buon bollino va bene si è caduto qua va bene magari vai si è caduto guarda è buono poi aspetta Marco vada 10-3 non tutti occhio dai ragazzi dai sono vicino dai dai giochiamo meglio noi dai brava 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 attaccata con i ragazzi che spalle marcia subito regolare regolare bravo bravo italo bravo buona guarda anche rimotto stavante è difficile direi che riesce sono bravi il io non non lì sì di prima di prima di prima ma c'è bravo portiere vedi del portiere siete liberi col portiere chiamatelo scusate no colpa mia scusa ci siamo distanti uno sotto troppo spazio troppo spazio troppo spazio tra lì bello ma che culo no che culo io io penso che cazzo nella cazzo dai dai se fa eh chi è dietro bravo 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 regolare questa no no basta c'è una barzelletta bravo domino dai ce la facciamo rispondendo perché prezzi bravo 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 fai stai bravo bravo ma bravo ragazzo ma questo modo nemmeno sono stati stritti fatela gira anche tra voi da mattia e donna c'è il centro campo sono trovate spazio e poi andiamo avanti dai dai un caldo Niente suo Prova pochi Ehi Pia 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 Sbutta dentro eh Via via Pia 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 Non scappate Attimo si scappate Pia 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 Dai sortiamolo bene dai Entra entra Oh Calma no sta 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 Dio Ehi Pia pia guarda te come si girato bravo teo bravo teo subito bassi terzini vado su vado su italo dai 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 In gasp e testa, testa, testa! Eh, 102 ora a caricarsi Schepp... Eeeh, non ho partito prima Scusa, scusa, scusa! No, ma io non ti avevo passato dal pallone, no... Non ci credi! Dai 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 dai! Capriamoci, eh? Vabbè, vabbè stai giocando bene dai ci facciamo ragazzi dai ognuno è su tranquillo vi lo so come evitato subito nel gioco occhio non lo so da mezz'ora non lo so non ho molto altri li possiamo fidare dai 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 non rinforzare non so se deve andare a dare ma abbiamo anche un termine passato è un po' più che con il musicista che hai scopato? no 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 bravo ma va bene ma va bene mi stavo spostando non si sceglie così troppo che se no si schiacciamo tutti i macchini più dopo proviamo qualche anzio perciò che andiamo dietro proviamo dove vai il portiere non ho cliccato niente dai ragazzi dai 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 ma vaffanculo dai 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 dai